Devo scrivere un reportage sulla Mille Miglia La corsa più bella del mondo Questi sono esattamente la metà dei pezzi di un'automobile A cosa stai pensando? Come sarebbe bello ricostruirlo E magari correre la Mille Miglia Ti piace? È bella Qui? Coppia Cegova Il mio copilota sta sempre a cimolare Pronto? Ma vabbè non ci posso credere a via canciata Ti rendi conto che stiamo su un ali di gabbiano e stiamo facendo la Mille Miglia? Vai! Sinceramente noi volevamo solo l'automobile Appunto dicevo spostati Grazie